Perciò insisto qualcosa per Cattelan. I castori, voto 6 su 10, costruiscono dighe e di questi tempi si sa, è meglio differenziare le fonti dell'energia. Se iniziassero a costruire anche impianti fotovoltaici e paleoliche, il voto potrebbe anche aumentare. Lo shampoo per capelli colorati e danneggiati, voto 7 su 10. È più specifico dello shampoo per capelli grassi, ma meno specifico dello shampoo per capelli ricci, secchi, corti, ma non colorati e con azione energizzante. Ma se non doveste trovare lo shampoo per capelli colorati e danneggiati, è ottimo anche lo shampoo delicato per capelli lunghi, colorati e antiforfora. Il polmone, voto 10 su 10, sarò sincero, è un voto molto di parte, il polmone è assolutamente il mio organo preferito, però non ditelo all'altro polmone che poi ci rimane male. Alessandro Cattelan, voto 7 su 10, non dico che non sia bravo, ma è anche vero che per presentare stasera c'è Cattelan, tra tutti i presentatori, lui era l'unico che avesse il cognome esattamente uguale al titolo. Comunque ci è andata bene.